Un pomeriggio a tutti e grazie innanzitutto di essere qui, di aver risposto all'invito di Amiralia. Gestire in modo sostenibile la propria impresa conviene, può sembrare un obbligo, può sembrare un dovere in più tra i tanti che l'imprenditore deve accollarsi, ma non è così, è un vantaggio addirittura monetario se lo si fa bene. E' quanto è emesso oggi da un evento promosso da Amiralia con la collaborazione di Economy e rivolto a un gruppo di imprenditori che sono venuti ad ascoltare i consigli, le istruzioni per l'uso, anche le esperienze e le testimonianze di tre interlocutori di eccezione, Andrea Martra, docente dell'Università di Torino e consulente d'impresa con una spiccata specializzazione sui temi della sostenibilità, di Sara Canonici, comunicatrice di impresa molto versata sul fronte dei bilanci di sostenibilità e Diego Piras, imprenditore informatico esperto in consulenza di processi e sistemi. Ebbene, la convergente testimonianza dei tre esperti con la presentazione di Lorenzo Haidt di Amiralia è stata chiara. Essere davvero sostenibili conviene anche se in questa fase iniziale di questa sfida che riguarda tutte le imprese può sembrare un costo. A guardar bene ci sono tanti sussidi, tanti aiuti finanziari sia dell'Europa organizzata, sia delle regioni, sia dello Stato italiano che consentono di attutire se non altro questi costi. E chi comunque si impegna e fino in fondo fa la sua parte oggi ricava un vantaggio economico che addirittura in termini di fatturato può esprimersi in misure a doppia cifra. Quindi insistere, non desistere, non disarmarsi e soprattutto non sottovalutare quello che sarà un progresso, un cammino obbligato per tutto il sistema al quale prima o poi bisognerà aderire. Meglio prima che poi oggi i prezzi dei servizi e delle consulenze sono più bassi, non potranno che crescere in seguito, accollarseli oggi significa anticipare e incrementare i vantaggi di domani.